A seguito della prima visita ispettiva fatta nella struttura di pronto soccorso di Giulia Nova, i consiglieri regionali Dino Pepe e Silvio Paolucci si sono recati presso il presidio di pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'obiettivo è stato quello di toccare con mano le esigenze e avanzare delle proposte volte a superare le criticità dovute al sovraffollamento e carenza di personale. Ci sono una serie di criticità su tutta la regione, in maniera particolare su questa provincia. Questa è la seconda visita ispettiva dopo Giulia Nova, oggi saranno a Teramo e poi saremo ad Atri e a Sant'Omero per parlare con gli operatori, con i pazienti, con chi quotidianamente vive la fatica del pronto soccorso. Innanzitutto abbiamo una carenza di personale cronica, solo su Teramo ci sono circa 20 figure mancanti tra medici, sanitari, infermieri e dosse e poi abbiamo le liste d'attesa che sono troppo lunghe. Il sovraffollamento dei pronto soccorso dipende anche dalla mancata messa in campo di un'azione forte da parte della Giunta regionale, in maniera particolare della Verì e di Marsilio. Su Teramo c'è anche un problema di sicurezza. Abbiamo vissuto in questi mesi tante difficoltà tra operatori e pazienti. Da questo punto di vista una maggiore vigilanza comporta un servizio migliore da parte degli operatori. Un problema quello del sovraffollamento nei pronto soccorso che purtroppo non riguarda solo la provincia di Teramo. È un tema regionale che colpisce molto ovviamente il pronto soccorso delle città capoluogo, quelli di riferimento. A livello regionale c'è un sovraffollamento ma soprattutto c'è un'assenza di programmazione da parte di questa Giunta regionale. Noi abbiamo concluso un mandato commissariale portando fuori la nostra regione eppure le tante assunzioni che ci sono state non hanno dato seguito alle richieste che invece erano presenti e necessarie da soddisfare nei pronti soccorso. Ancora tante file di attesa in ragione dell'assenza del personale ma anche in ragione dell'assenza della programmazione sul territorio della sanità territoriale. A pagarne il prezzo tanti cittadini che attendono inutilmente e tanti operatori.